Eccolo, è arrivato anche Gessaroli, Massimiliano Gessaroli, eccolo qua. Allora, questo... Allora, questo... Devo complimentarmi con Franca che ha fatto un grandissimo lavoro in questi mesi, perché è già da parecchio che gira per tutta la città. Sono contento, innegabilmente, che abbia vinto Franca, perché noi, almeno è sempre espresso un programma simile al nostro, e sono sicuro che potremo collaborare insieme per tutta la nostra comunità. Ed è quello che mi auguro, perché sarà la prima donna a fare grande cattolica. Grazie, Massimiliano. Da qui partiamo, da qui partiamo. Collaborazione.